E lo dico senza tema di essere smentito, è una festa, è una festa perché il passato congiunta c'è e non solo c'è ma la doppia, perché, lo spiegheremo più tardi, non solo la nostra proposta politica nata 5 anni fa trova continuità, ma trova continuità in un rafforzamento della proposta di fronte a la città di passato. La nostra lista era nata 5 anni fa in un contesto politico, sociale, amministrativo molto particolare, tutti voi ricorderete la grande campagna contro le torri portuguesi e la nostra scelta di passare l'ostacolo e di lavorare per la città, contro ogni logica, contro ogni convenienza. Abbiamo rotto anche con il nostro passato e ci siamo schierati a favore della città per un progetto di sviluppo della città in cui credevamo molto. Questo progetto prevedeva uno sviluppo della città diverso da quello che era stato coordinato con il famoso progetto del torri portoghesi e in funzione di quello ci siamo spesi e siamo finiti a governare la città per questi 5 anni. È stata un'esperienza comunque difficile non solo per quella decisione ma anche in questi 5 anni. Sono stati 5 anni importanti in cui abbiamo lavorato molto bene sia come assessori che come consiglieri. Sono stati 5 anni difficili perché non è il mistero che all'interno della maggioranza in cui ci siamo trovati le occasioni e i motivi di difficoltà e di contrasto non sono mancati. Ciononostante queste difficoltà ci hanno rafforzato, ci hanno consolidato, ci hanno permesso di crescere e quindi proponiamo alla città, proponiamo a Passano, un gruppo di amministratori competenti e motivati per il futuro sviluppo della città. Abbiamo la fortuna di non dover fare promesse, di non raccontare il libro dei sogni, abbiamo la fortuna di essere appoggiati in tutto quello che andremo a dire dai fatti perché la concretezza dell'agire è quello che ci ha sempre caratterizzati e vogliamo sia anche la cifra, diciamo così, che ci accompagnerà nella prossima campagna elettorale. In questa proposta politica che andiamo a presentare oggi ci riteniamo talmente consolidati e maturi da superare anche degli schemi legati al passato e da proporre anche soluzioni e schemi politici nuovi, per cui a fronte di soluzioni scontate rispetto a chi farà il candidato sindaco, oggi presentiamo alla città un candidato sindaco nuovo, Andrea Zonta, una persona che si è distinta in maniera notevole sia all'interno dei propri assessorati che all'esterno in altre competenze e lo facciamo consapevoli che saprà confrontarsi al meglio nella prossima campagna elettorale. A fianco di Andrea ci saranno due liste, ci sarà la lista storica, passano congiunta, e ci sarà una lista collegata che viene sempre evidentemente dal primo mondo, che è la lista che era come capolista di Zabreda, assessore anche lei uscente dal mandato Cimatti, che si è distinta altrettanto per capacità e competenze in un settore estremamente delicato come quello del sociale e che si è fatta apprezzare per le sue capacità non solo di relazione ma anche di competenza. Il primo ascolto è meno burocrazia nei confronti del cittadino e il secondo grande principio cardine, Bassano, che deve recuperare la sua capacità, si dice leadership, io dico genericamente faro del territorio, in una dimensione che non può evidentemente essere quella locale ma deve andare oltre, quindi capace di relazionarsi anche in maniera transnazionale con il resto dell'Europa e anche di questo vi daremo esempi al di là della semplice inunciazione che sto facendo io adesso. Come diciamo all'inizio, la nostra cifra è la concretezza, ci sono i fatti che diventano un patrimonio condiviso per la città. In alto a sinistra vedete il riferimento al masterplan 2020, l'enorme lavoro di sviluppo urbanistico, di rimodulazione urbanistica di una fetta importante del territorio comunale, è svolto tra l'altro a titolo volontaristico dal nostro Antonio Guglielmeni assieme a Massimo Vallotto tra il 2009 e il 2010 che ha permesso di diventare, che ha rappresentato il perno tra il quale sono poi costruite le proposte alternative per l'area ora al piano Parolini e quindi per smontare definitivamente il progetto delle torri di Portoghese. Poi vedete qui sono alcuni cendi in alto, in centro della sede della protezione civile, tema ricorrente nelle varie amministrazioni che si sono susseguite a Bassano, finalmente ha trovato soluzione per tutte quelle associazioni che si spendono quotidianamente in maniera volontaristica disinteressata per la tutela del nostro territorio e questa sede, sapete bene, è stata ricavata presso la caserma ex caserma truncata. Non ha sempre a volo d'uccello il contrasto a gioco d'azzardo in alto a destra, siete ben consapevoli, voi tecnici e voi rappresentanti di Emilia di quanto ci siamo spesi in questi ultimi due anni contro una vera e troppia fiaga sociale quale quella del gioco d'azzardo. La nostra azione non si è limitata a delle stelle di interpellanze o di banali ordini del giorno, ma è entrata nel concreto, si è sviluppata fino a diventare una vera e propria ricerca capillare nel territorio che si è stata riconosciuta in maniera ufficiale anche dagli organi di polizia come strumento di importanza fondamentale per poi aiutare anche loro nel monitoraggio del territorio. Per non parlare dell'ultima azione che si è chiusa con il Consiglio Comunale della settimana scorsa durante il quale abbiamo approvato un documento che restringe gli orari per questo tipo di attività. Quindi come accennavo prima, concretezza nell'angile. In basso e a sinistra i vari regolamenti sui quali ci siamo impegnati in questi cinque anni, grazie anche al grandissimo lavoro che ha fatto Sergio Giacomo come Presidente della Prima Commissione a Fane Istituzionali, ne citiamo solo due, il regolamento dei quartieri che da anni attendeva una soluzione organica rispetto a problematiche non solo legate al voto agli stranieri ma anche e soprattutto a tutte quelle dinamiche interne ai quartieri che spesso diventavano motivo di divisione e di contrasto e di poca armonia. E anche questo è stato un punto raggiunto percorso su variati mesi, così come il regolamento di inizio sostenibile, questo l'abbiamo partezzato all'inizio del mandato, ancora 2009-2010, che è diventato uno strumento di importanza fondamentale per orientare la crescita della città dal punto di vista urbanistico in modo nuovo e aggiornato con i tempi. La riqualificazione luminotecnica, la mobilità sostenibile, altrettanti i lavori attorno ai quali ha lavorato l'assessore Zonta durante i suoi mandati e l'ucis in fondo tutta a rappresentare le azioni nell'ambito del sociale, finalmente la chiusura di quella telenovela, la definirei di Callarubi, che pur ridotta nella sua entità ha trovato soluzioni troppo in queste ultime settimane, che vede finalmente partire il progetto del primo nucleo e tutti i vari progetti di inserimento lavorativo che hanno aiutato molti cittadini in un momento di pesante crisi economica come quella attuale. Io mi fermerei qui solo per dirvi che la nostra proposta politica non parte con toni di esaltazione ma certamente non parte con premissione e con nessun tipo di dato scontato rispetto a quello che il panorama politico locale sta proponendo. Non è un mistero che il quadro delle liste che si stanno presentando agli lettori è estremamente sfilacciato, disorganico, contraddittorio per certi versi, mi riferisco anche da ultimo a quello che è successo l'ultima mattina con la presentazione della squadra del cosiddetto centro-destra, dove una Lega che da un mese stava facendo propaganda al proprio candidato sindaco non ha trovato niente di meglio che ricongiungersi a ciò che resta del proprio della libertà per puri e semplici interessi di Carrega come si dice in Veneto ma io sono convinto che di fronte a certe situazioni i cittadini sono molto più maliziati rispetto a quello che possono credere certi notabili locali che intengono ancora che i bassanesi abbiano l'anello al naso, l'anello al naso come una volta si portavano le persone. E altrettanto credo che siano consapevoli di presentazioni di proposte politiche vecchie superate che non hanno nessun valore aggiunto per la città rispetto invece a quello che noi riteniamo di poter fare forti della nostra esperienza. Le idee da attuare sono ancora molte e adesso vi rappresentiamo cosa intendiamo fare nei primi 100 giorni se i cittadini ci daranno la possibilità di governare. a partitocrazia, intrisa di spartizione del potere, di scelta dei candidati, di manovre nelle retrovie dove maggiorenti della politica o poteri forti i cittadini proclamano il cambiamento che non c'è. Ahimè se ci scavate un po' lo capite anche voi. Abbiamo un sogno, creare un tessuto sociale dove la necessità di ognuno, famiglie, imprenditori, giovani diversamente abili e quant'altro che compongono la nostra società, possano trovare condivisione per un'equità sociale di vita comune che fonda lo stile di vita nella solidarietà, nella condivisione delle proprie forze, in questo momento ne abbiamo bisogno, e possibilità di creare un aiuto virtuoso e soluzioni di necessità a chi ha bisogno. Attenzione alle nuove tentazioni che diventano piaga sociale, non ci sono solo le vecchie droghe ed infusi da sballo, ma esiste la ludopatia che in modo mirabile il nostro Guglielmini ha dimostrato e esiste soprattutto il vuoto creato dalla mancanza di rapporti personali, da una morale che è sempre più individualista. Il terzo nostro sogno, e qua ci aggiungerei sempre la Wall Disney che diceva che i sogni sono desideri, è governare Bassano usando il tempo come uno strumento e non come una poltrona. Saremo presenti con forza nei tavoli decisionali delle questioni importanti, ne abbiamo sentite tanti in questi giorni, ne sentiamo a tempo la difesa del Tribunale, la difesa della caserma dei Carabinieri, il potenzio attento tecnico del ruolo del nostro ospedale, la proprietà della caserma Montegrappa, l'apertura del Tempio Sario, la superstrada per la montana, la nuova Val Sugana, ma questi sono temi su cui l'amministrazione comunale ha un compito di attenzione e sicuramente di incisività nelle decisioni che però ahimè non spettano direttamente a chi fa il sindaco, ma spettano a denti più elevati quali per esempio la regione piuttosto che lo Stato italiano. Su questi temi noi saremo sicuramente presenti, da rendiremo la nostra e difenderemo il nostro territorio, ma ancora più noi dovremmo fare delle cose che poi spiegheremo e saranno quelle dei primi 100 giorni. In senso generale saremo anche attenti a quello che è il grande evento dei prossimi 5 anni che sono la memoria storica, la rievocazione o il ricordo della prima grande guerra mondiale e pertanto tutti quelli che avvenimenti che è stato quest'anno andranno fino al 2018. Porremmo attenzione, ma lo dirò poi in modo particolare in tutto questo, agli eventi ma anche a qualcosa che ultimamente sta interessando tutti noi e che è il ponte degli altri, un ponte che è un simbolo, che è un monumento e che grazie anche all'interessamento di tanti e di molti bassanesi sta avendo un'attenzione che sicuramente dopo tanti anni... ...di costruire assieme questa lista parallela che affianca Bassano congiunta con grande determinazione e con grande fiducia nel nostro candidato Andrea Giunta perché io devo dire, devo ringraziare Stefano per la grande crescita personale che mi ha fatto fare in questi anni, lo dico pubblicamente, abbiamo sofferto e giurito assieme e io di questo ne sono veramente grata, sono grata anche della grande crescita che abbiamo fatto in questo ultimo periodo dove la squadra si è riaffermata, rinforzata e ha fatto un passaggio enorme anche nel valorizzare figure veramente presenti all'interno della nostra squadra che hanno lavorato benissimo anche con meno visibilità di quello che magari possiamo avere avuto io e Andrea, quindi parlo anche di tutti i consiglieri e anche di chi ci ha affiancato, vedo Valentina, è stata, vedo Claudia, vedo Sabrina, vedo veramente Leonardo, sono tutte persone della nostra squadra ma voi non sapete per arrivare a questo punto quanto lavoro abbiamo fatto perché noi siamo convinti che per proporre le cose alle persone prima bisogna partire dall'ascolto, quindi la nostra squadra si è sempre ascoltata e se siamo uniti lo stiamo proprio per questo. Io ovviamente con la mia esperienza credo che chi mi conosce sa che andrò sicuramente a supportare e a valorizzare il lavoro fatto in questi cinque anni che spero in prossimi incontri pubblici anche di potervi raccontare perché è giusto anche che si parta da ciò che si è fatto per poter poi portare avanti nuove progettualità ma sono sempre più convinta che vada valorizzata la persona, la famiglia assolutamente, l'emergenza abitativa come si è parlato con nuove forme ma rivalutazione del patrimonio ERP che purtroppo per situazioni di amministrazione, di bilancio, di coesione di squadra non siamo riusciti a portare avanti in questi anni, c'è un lavoro pronto nel cassetto, si può portare avanti e credo che noi riusciremo a farlo e poi i giovani, poi i giovani che io ovviamente vivo da vicino attraverso anche i miei figli e per assolutamente i miei figli, credo che abbiamo un grande dovere nei loro confronti quindi saperli ascoltare e proporre dei percorsi che siano coinvolgenti ed educativi allo stesso tempo, rivitalizzando il centro storico e tutte quelle bellissime iniziative che se penso a 15 giorni fa alla bellissima via Vittorelli che era una meraviglia ed è quella la bassana che mi piace, io so che abbiamo al nostro interno delle persone competenti e che ci ulteranno a sviluppare poi tutti questi primi 100 giorni anche perché lavorando assieme nelle politiche di conciliazione ad esempio sto portando avanti già un bel percorso iniziale perché ci vuole tempo per rendere coesi e condividere le progettualità ma siamo già ad un passo diciamo importante e credo che sia solo la forza della squadra che porta i risultati ma lo deve portare attraverso una condivisione. politico-amministrativo locale bassanese è la prima volta che una lista civica si ripresenta a distanza di un mandato, normalmente le liste civiche vengono create come contenitori solo documentali a una corsa di una volta diciamo così, il nostro gruppo invece ha la forza e la competenza per procedere oltre, lo fa alla luce del sole, lo fa con la chiarezza e la franchezza con cui ha sempre operato in questi cinque anni e aggiungo anche che lo fa a testa alta contro tutti gli schemi che ci gireranno attorno in queste settimane perché siamo convinti che i cittadini avranno la possibilità di giudicare in base a quello che effettivamente è stato prodotto. La nostra forza è il gruppo, la nostra forza è rappresentata dal modo nuovo con cui ci riproponiamo fuori dagli schemi ma nella continuità, quindi il rinnovamento nella continuità rispetto a un percorso iniziato cinque anni fa. Grazie. Grazie a tutti.